Come azienda non siamo molto abituati a questo tipo di regate né a questo tipo di barche, siamo più confidenti con barche tipiche dei circuiti mediterranei. Quindi per noi è stato molto interessante vedere soluzioni nuove e un nuovo approccio alla soluzione. Al francese comunque piace molto sperimentare, ci è piaciuto vedere cosa fanno le altre aziende, per noi è stato veramente costruttivo. Ieri pomeriggio siamo stati a bordo di Gitana, con molto orgoglio siamo riusciti a mettere qualcosa a bordo ed è impressionante, è un trimarano mostruoso, ha soluzioni e carichi di lavoro che danno quasi ansia. La diciassettesima barca che quello sponsor e quel team costruiscono insieme, anche questa ne ha fatto piacere. Vorremmo sviluppare sempre prodotti sempre più adatti a questo tipo di competizioni, vedere nuove soluzioni e nuovi approcci alla soluzione, il che non è detto che poi ti portino a diventare il leader di queste classi, ma ti possono servire mille altri lavori, comunque ti apre la mente. Se un domani ci sarà modo di continuare con questi due ragazzi, che con noi sono stati molto leali e carini, ne saremo ben lieti di salire anche di classe, di provare a crescere insieme.